E' sempre più vicina la nuova sede della Polizia Municipale in via Filzi, nel quartiere di Saione, nello stabilimento che per anni aveva ospitato un asilo. Il Tarre, infatti, ha respinto il ricorso che ne ostacolava da mesi la realizzazione, dando di fatto al Comune il via libera per procedere con la costruzione. A presentare l'ultimo ricorso era stata la ditta superata nella gara d'appalto la Subistati SRL, per la quale il progetto definitivo sarebbe stato incompleto e carente. Il Consiglio di Stato, lo scorso 4 novembre, aveva già negato la sospensiva invocata dalla stessa azienda ed adesso arriva anche il via libera definitivo del Tarre, che ha respinto nel merito il ricorso, confermando così la validità della gara e dando l'ok alla possibilità di procedere. Nei giorni scorsi, inoltre, la Giunta aveva già approvato il progetto definitivo da oltre 4 milioni, con una serie di ritocchi decisi in base alle esigenze del corpo. Al procedere sarà la Seli Manutenzioni Generali SRL, che si era presentata con le mandanti Bracciante Edilizia e Icrea Banca Impresa. Insomma, la Cherel, che ormai va avanti da anni, potrebbe trovare qui una sua conclusione, con il ritorno dei vigili urbani nel cuore di Saione, proprio dove erano stati per una vita.